Identità di famiglia. Un grifone d'oro in campo rosso è l'immagine sgargiante e vistosa che simboleggia la famiglia Martelli nello stemma scolpito da Donatello, che in origine si trovava sulla facciata del palazzo in via degli Spadai e che poi è stato trasferito nella nuova residenza di via Zannetti alla fine del Settecento. La mano del grande artista del Rinascimento evidenzia con sicurezza gli artigli affilati, le ciocche della criniera, lo sguardo arrogante e sfrontato dell'animale fantastico. Ma al tempo stesso ci regala uno scorcio di quotidianità nell'uomo che sorregge lo stemma pesante aiutandosi con dei lacci legati intorno al collo. Firenze è stata definita la città più araldizzata d'Europa. È impossibile non imbattersi in migliaia di stemmi. Scolpiti, dipinti, affrescati, marcano le superfici dei palazzi, ne invadono le chiese, si mescolano alle immagini d'arte o ne sono parte integrante. E allora viene spontaneo chiedersi quale potrebbe essere lo stemma che rappresenta la nostra famiglia e che la identifica. Ai tempi in cui ho frequentato gli archivi per la mia tesi di laurea mi sono persa più volte tra le pagine di manoscritti e inventari alla ricerca di informazioni sull'origine della mia famiglia. E c'è stato anche un momento in cui ho pensato di rintracciarne lo stemma, descritto nelle carte con una pecora bianca in campo colorato. Dopo il divertimento iniziale la ricerca non è andata avanti, ma nel momento in cui mi sono interessata allo stemma martelli mi viene da chiedermi oggi quale potrebbe essere il simbolo più indicato a rappresentare la mia famiglia. E voi, quale stemma immaginate per la vostra?